Non giudicate per non essere giudicati e perché quando giudichiamo ci mettiamo al posto di Dio e il nostro è un giudizio povero, non perché è Dio onnipotente, ma perché, a differenza nostra, giudica con misericordia. Così Papa Francesco ha commentato il brano del Vangelo di Matteo inserito nella liturgia di oggi, nella messa del mattino a casa Santa Marta, l'ultima con omelia prima della pausa estiva. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio, ha detto il Pontefice ricordando l'insegnamento di Gesù. È tanto brutto giudicare, ha commentato, ed è ipocrita. Solo Dio può giudicare. Noi possiamo pregare, amare, comprendere e quando vediamo cose che non sono buone anche parlare con chi sbaglia, ma mai giudicare. Pensiamoci in questo che il Signore ci dice. Non giudicare per non essere giudicati. La misura, il modo, la misura con la quale giudichiamo sarà la stessa che useranno con noi. E terzo, guardiamoci allo specchio prima di giudicare. Ma questa fa quello, questo fa quello, quello. Aspetta un attimo, mi guardo allo specchio e poi penso. Dal contrario sarò un'ipocrita perché mi metto al posto di Dio e anche il mio giudizio è un povero giudizio. Le manca qualcosa tanto importante che ha il giudizio di Dio. Le manca misericordia. Che il Signore ci faccia capire bene queste cose.